Infermieri e autisti al San Bastiano, secondo i sindacati la sperimentazione presenta già alcune falle. Futuro incerto per la prenotazione degli esami del sangue al centro prelievi di Angarano diventerà ad accesso libero. Elena Pavane, letta alla guida dell'Unione Montana del Bassanese con l'intento di rilanciare l'insieme l'intera area. Riposerà nella sua amatissima Tombolo, Ennio Doris, sabato mattina alla Camera Ardente, nel pomeriggio l'ultimo saluto. Nelle ultime 24 ore oltre 100 i nuovi positivi del territorio dell'Ulsset, una crescita costante. La polizia è intervenuta in Viale Vicenza, segnalata la presenza di alcuni ragazzi sopra il tetto degli immobili Exelb. Finisce con la bici sotto l'auto, 38enne di Rosa, ferita. In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la città di Bassano aderisce a diverse iniziative. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, edizione serale di Bassano Tg. Parliamo subito degli infermieri autisti a San Bassiano. La sperimentazione presenta già alcune falle. Sentite. Comincia a mostrare già qualche crepa la sperimentazione che vede gli infermieri alla guida delle automediche. Sì, decisamente. Nel senso che il buon senso di molti infermieri che comunque si sono messi a disposizione per provare questa sperimentazione si stanno dimostrando coscienziosi di più di chi dà proposta, sostanzialmente. Alcuni, non dico tanti, però fatta questa esperienza alla guida in stato di emergenza, o comunque anche non in stato di emergenza, hanno capito che non è il loro lavoro, ma per competenza e professionalità. Che se ognuno sta al proprio posto, ognuno fa la propria mansione, tutto il soccorso va nelle giuste direzioni. Se qualcuno fa qualcosa che non gli compete, lo fa sicuramente non bene come un tecnico. Se qualche giorno fa il segretario del Nursind Vicentino, Andrea Gregoria, aveva dato tempo al tempo, seppur con parecchi dubbi, in merito alla sperimentazione degli infermieri del pronto soccorso del San Bassiano alla guida di automediche, ora le sue perplessità vengono confermate e chiede a gran voce l'apertura di un fronte regionale. Non si può trovare al mattino che ognuno decide il proprio standard, perché questa non è organizzazione, questa è disorganizzazione. Una disorganizzazione, dettata dalla smania di risparmio, dice attuata dal direttore generale Carlo Bramezza. Evidentemente questa direzione strategica è d'accordo con questo tipo di sperimentazione. Hanno risparmiato un appalto di ambulanza di categoria inferiore, hanno sicuramente risparmiato sugli autisti, che vi voglio ben precisare, gli autisti hanno una graduatoria in essere, e due persone ad ottobre erano alla guida delle automediche ed è stato fatto scadere il contratto a tempo determinato. Quindi è una scelta ben precisa di risparmio di spesa. Sulla pelle della gente. Non è ancora successo nulla, però se vogliamo aspettare che succeda, questo non mi sembra una buona gestione sanitaria. E continuiamo a parlare di ULSSET, perché in piena quarta ondata Covid, l'ULSS avrebbe deciso di eliminare il servizio di prenotazione degli esami del sangue al centro prelievi di Angarano. Diventerà così ad accesso libero. È una segnalazione che ci è arrivata da molti cittadini e che ho potuto verificare personalmente. Prendere la linea è assolutamente impossibile. Ore e ore al telefono, senza poi riuscire a parlare con l'operatore, visto che la linea a un certo punto cade. Un incubo prenotare gli esami del sangue, unico modo per fissare l'appuntamento perché non è attiva la prenotazione online. Personale, evidentemente insufficiente, che andrebbe potenziato per migliorare il servizio. E invece l'ULSSET cosa fa? Pare che abbia deciso di usare la cesoia. Taglionetto del servizio e accesso libero al centro prelievi, senza prenotazione, dunque dal primo di dicembre. Sì, sì, avete capito proprio bene. In piena quarta ondata, con il numero dei contagi che sale in maniera vertiginosa, l'azienda sanitaria apre le porte e avanti tutti. Mi sono recato direttamente negli uffici e ho scoperto una cosa che per me è abbastanza incredibile. Che dal primo dicembre non sarà più possibile prenotare il centro prelievi di Angarano e di San Vito. Ecco, questo in un periodo di covid è assolutamente intollerabile che delle persone si ammassino nella sala d'attesa. Secondo Tasca, la volontà potrebbe essere quella di arrivare alla chiusura dei centri prelievi di quartiere per accentrare tutto in ospedale. Aggiungo un'altra cosa e la chiedo direttamente al direttore generale Bramezza e alla sindaca Pavanna. Questi servizi vogliono essere mantenuti perché quando uno va a tagliare la prenotazione così, il sospetto che viene ad un cittadino è ma i centri di prelievo di quartiere vorranno essere mantenuti o meno? Il mio appello è sia al direttore Bramezza che alla sindaca Pavanna occupatevi di questa questione perché è di fondamentale importanza per la salute dei cittadini bassanesi. E aggiungiamo noi, fare economia sulla salute delle persone, soprattutto in tempo di covid, è davvero inaccettabile. E nasce l'Unione Montana del Bassanese e all'unanimità viene nominata presidentessa Elena Pavanna. Elena Pavanna piglia tutto per il ruolo che si è trovata a ricoprire come sindaca di Bassano del Grappa. Così è caduta libera presidentessa della conferenza dei sindaci, della conferenza dei servizi e ora anche della nuova Unione Montana del Bassanese, sorta dalle ceneri di quella del Grappa. All'unanimità è arrivata a martedì la nomina che da una parte ha anche un senso perché l'intento di tutti i soci dell'Unione, i sindaci del Bassanese, è quello di puntare al rilancio di un'intera area meglio di quell'area vasta di cui tanto si è sentito parlare con la città di Bassano capofila. Ritornare un po' al passato in cui la sede della comunità montana si trovava appunto a Bassano del Grappa ridare a Bassano una centralità nuova e quindi utilizzare questo strumento che è stato utile nella Val Brenta per realizzare la fusione dei comuni utilizzarlo insomma per cercare di dare nuovi servizi, amalgamare, lavorare insieme con gli altri comuni del territorio. Un sudalizio che punti al rilancio del territorio quindi all'intensificazione dei servizi e dei fondi compresi quelli di confine per far ripartire davvero quest'area vasta con la leadership di Bassano del Grappa anche se alcuni dubbi vengono pensando alla presidenza Pavan. I paragoni non sono mai piacevoli ma a volte è necessario farli perché guardando la gestione della città dove a oggi regna l'immobilismo non si può non pensare a quello che potrebbe accadere a tutta l'Unione sottolegida della prima cittadina di Bassano ma qui Luca Ferazzoli per anni alla guida dell'ex Unione Montana del Brenta assicura Gli obiettivi sono diversi qui Bassano è primus inter pares e quindi diciamo c'è una leadership di Bassano che viene riconosciuta ma le leadership si rafforzano erogando servizi e quindi è interesse di tutti insomma che l'azione del governo dell'Unione Montana sia un'azione efficiente che diciamo che adempia le esigenze del territorio e faccia un salto di qualità importante Speriamo perché anche a Bassano tutti i consiglieri sostengono la stessa cosa e il risultato è sotto gli occhi di tutti E nelle ultime 24 ore sono oltre 100 i nuovi positivi nel territorio dell'Ulssetpe de Montana una crescita costante negli ultimi giorni Non si arresta l'aumento dei contagi nell'Ulssetpe non una crescita esponenziale ma costante a cui si accompagna anche un aumento di ricoveri in ospedale Rispetto alle ultime 24 ore nella Pedemontana si registrano 102 persone positive in più Per quanto riguarda i ricoveri infatti ora sono in tutto 52 con altri 6 pazienti entrati nei reparti non intensivi Una parziale buona notizia è il fatto che non ci sono stati nell'ultimo giorno nuovi ingressi in terapia intensiva Sempre alto il numero di tamponi fatti e non sono mancate lunghe attese Eseguiti 2850 tamponi divisi più o meno a metà tra rapidi e molecolari Infine i ricoverati sono 24 a Sant'Orso e 16 a Bassano Nessuno ad Asiago In terapia intensiva ci sono 3 pazienti a Sant'Orso e 2 a Bassano e per fortuna nessun nuovo decesso si registra nella Pedemontana E la cronaca con la polizia intervenuta in Viale Vicenza dove era stata segnalata la presenza di alcuni ragazzi sopra il tetto degli immobili Ex-Elba Una passeggiata pericolosa sul tetto dell'Ex-Elba ad una decina di metri di altezza Protagonisti della bravata due ragazzi che sono stati notati da alcuni passanti mentre si muovevano sopra la copertura dell'edificio di Viale Vicenza area abbandonata da anni e in stato di degrado La segnalazione è giunta al 113 Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato di Bassano ma nel frattempo i giovani si erano allontanati Dietro l'azzardo forse la voglia di mettere in rete una sfida rischiosa magari per il solo gusto di ottenere qualche like sui social Incidente stradale questa mattina alla rotatoria di Viale Diaz a Bassano Non sarebbe in pericolo di vita la 38enne residente a Rosà finita con la bicicletta sotto un'autovettura all'altezza della rotatoria di Viale Diaz a Bassano L'incidente stradale è accaduto nella tarda mattinata di oggi La donna è stata portata in pronto soccorso al San Bassano Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale di Bassano spetterà a loro ricostruire la dinamica del sinistro alla guida dell'autovettura un 23enne di Schio Parliamo ora di controlli anti-covid da parte della polizia di Stato nelle sale gioco del Bassanese Gli agenti hanno multato il gestore di un locale di Marossica che era al lavoro senza Green Pass Si tratta di un 46enne residente nel comune di Pieve del Grappa Per lui è scattata la sanzione di 400 euro Ed ora parliamo della giornata mondiale contro la violenza sulle donne perché la città di Bassano aderisce a diverse iniziative Sappiamo che in Italia l'anno scorso sono state uccise 100 donne una donna ogni tre giorni in media proprio dalla mano del proprio compagno, del proprio marito, del proprio amante 53 chiamate ricevute dal pronto soccorso e dai carabinieri di Bassano da parte di donne vittime di violenza quest'anno 118 in totale le donne che hanno subito violenza per mano dei loro compagni nel 2020 nel Bassanese Si tratta di donne per la maggior parte italiane scolarizzate che hanno bisogno di supporto per riuscire a liberarsi dalle catene della violenza Le associazioni di volontariato femminile non sono venute a trovarmi nel mio assessorato e io e appunto il mio assessorato ci siamo impegnati a valorizzare tutte le iniziative e anche a supportare queste associazioni E proprio in occasione del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne Bassano aderisce a una serie di iniziative volte a sensibilizzare i cittadini su questo tema Dal tavolo delle associazioni femminili è stata organizzata una marcia Uniscita il cuore delle donne e questa marcia ha appunto il compito di sensibilizzare le persone ed è aperta a bambini, ad adulti, ad anziani, anche a disabili Una marcia prevista per domenica 28 novembre e che prevede tre percorsi di passeggiata dando la possibilità a tutta la cittadinanza di aderire al fine di mobilitare l'intera comunità contro la violenza di genere Portiamoci rispetto, il rispetto è fondamentale e fin da piccoli, fin dalle scuole dobbiamo iniziare a insegnare questo entrare nelle scuole, sensibilizzare i nostri ragazzi Ed ora vediamo altre notizie dal territorio in breve Bassano del Grappa si terrà il 28 novembre nel quartiere 25 Aprile la marcia in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne Pieve del Grappa Una giovane agricoltura avanza è l'evento in programma il 26 novembre alle 20.30 al centro parrocchiale Romano Dezzelino sabato prossimo alle 11 alla Chiesetta Torre avrà luogo l'inaugurazione delle panchine rosse per il 25 novembre Fontaniva avrà luogo il 29 novembre alle 19 una riunione straordinaria del Consiglio Comunale presso la sala polivalente del centro anziani Borso del Grappa senso unico alternato sino al 2 dicembre della circolazione stradale sulla provinciale 26 Enego in occasione della giornata mondiale degli alberi 2021 ieri al Parco Comunale gli alluni della scuola primaria hanno piantato un piccolo faggio e dei semi Mussolente prevista per il 29 novembre una seduta ordinaria del Consiglio Comunale nella sala consigliare Salcedo dal 24 novembre al 17 dicembre sulla strada provinciale 69 è prevista l'istituzione di un senso unico alternato della circolazione stradale Riposerà nella sua amatissima tombolo Agno Doris la camera ardente è aperta dal pomeriggio di oggi a Milano e sarà anche aperta sabato mattina nella sua residenza nel pomeriggio di sabato nella chiesa parrocchiale ci sarà l'estremo saluto e il sindaco Andretta ne ricorda la grandezza e la grande generosità Sì, oggi è un giorno buio per la nostra comunità perché viene a mancare una persona eccezionale una persona che ha dato tanto alla comunità è stato un benefattore importante per tutto e tutti ma soprattutto è una persona che ci ha illuminato la via con il suo pensiero positivo con il suo credere sempre in un futuro migliore e lavorare per raggiungere un futuro migliore La stima, l'affetto, la profonda riconoscenza per quanto ha fatto sempre per la sua comunità le parole del sindaco Cristian Andretta si ripetono di bocca in bocca era ancora residente a Tombolo Agno Doris uomo di successo, non aveva mai dimenticato le sue origini figlio di un mediatore di bestiame lo erano tutti a Tombolo ogni fine settimana tornava al paese per respirare aria buona era un benefattore, aveva sostenuto le spese per la sistemazione della chiesa, dell'asilo aveva regalato tutti gli strumenti alla banda infatti io mi sono permesso di scrivergli ti voglio bene perché vedevo che poteva essere in difficoltà lo conosceva bene anche Ivo Antonino Pilotto ex presidente del calcio Padova che con Agno Doris condivideva la passione per il gioco a carte avevamo meglio che due fratelli avevamo più scoloni in tre tre da una parte e tre dall'altra perché era più scientifica un po' non era la solita, mi riscaldano era più da pensare era lui il capo di là e io il capo di qua sempre contro, ma per ridere era un spasso abbiamo vissuto troppo assieme con Ennio lo ricorda anche il titolare del bar centrale dove Ennio Doris incontrava gli amici arrivava e trovava i suoi amici li radunava e tutti chiedevano di finanza, di sport perché lui era un amante dello sport era un conoscitore molto profondo del ciclismo oltre che di calcio che qui era una piazza un po' umile insomma il gente che si trovava proprio perché e quando arrivava lui era un po' un personaggio che raccoglieva tutti perché lui era stimato da tutti aveva un carisma e un'umiltà e una raffinata umiltà sabato mattina nella sua residenza si aprirà la camera ardente tante le persone che gli renderanno l'ultimo omaggio bandiere a mezz'aste in municipio dove tutti sono già all'opera per l'ultimo saluto nella chiesa di Sant'Andrea alle 14.30 sono attese tantissime persone forse anche lo stesso Silvio Berlusconi per quel giorno il sindaco ha proclamato il lutto cittadino lotta alla violenza sulle donne l'onorevole Lazzarini lancia una maratona di sensibilizzazione una foto sulla panchina rossa perché tutta la comunità di Pozzo Novo guidata dalla sindaca Arianna Lazzarini porti avanti un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e così venerdì e sabato prossimi si terrà una maratona mirata alla lotta una vera e propria piaga basti pensare che nel 2021 i femminicidi sono aumentati dell'8% rispetto all'anno precedente una donna uccisa ogni tre giorni e allora l'onorevole Lazzarini invita i suoi cittadini e le sue cittadine a sedersi per 10 minuti sulla panchina rossa che sarà sistemata davanti al municipio per lanciare un segnale forte che non deve essere limitato a una sola giornata ma tutto l'anno a cominciare la maratona è proprio la sindaca che si è fatta ritrarre seduta sulla panchina rossa allestita all'interno della Camera dei Deputati e a Cadoneghe arriverà un parco dedicato esclusivamente ai bambini il progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale i lavori saranno per oltre 100.000 euro Un nuovo parco urbano a Cadoneghe è riservato esclusivamente ai bambini della fascia d'età 0,5 anni accompagnati dai genitori un ambiente dove i più piccoli possono giocare in totale sicurezza circondati dal verde il parco troverà collocazione in un'area ora abbandonata a parte di un lotto edificabile situato in Via Franco nella zona centrale di Meianiga il parco è frutto di un'intesa tra pubblico e privato l'accordo prevede l'accessione al comune del 26% della superficie del lotto pari a 501 metri quadri in quest'area verrà realizzato a spese del privato un parco per un investimento di circa 104.000 euro verranno piantati molte alberi e verranno posizionati giochi con pavimento antitrauma Alle 21.15 questa sera in diretta Focus tra gli ospiti parliamo di Leopoldo Bottero Alessandra Chiantoni Arrigo Cipriani Maurizio Conte Roger De Menech Barry Mason e Simonetta Rubinato In questa nostra edizione non ci sono altre notizie vediamo insieme che tempo farà domani Ringrazio a tutti voi per essere stati insieme a noi Arrivederci Grazie a tutti i suoi